buongiorno a tutti e bentrovati alla rubrica domanda risponde riprendiamo dopo le vacanze estive e vi terremo compagnia per tutto l'anno scolastico 2022 2023 oggi parleremo di chiamate dalle gps dalle gradatori d'istituto per i docenti precari domanda numero uno quest'anno avuto la nomina per uno spezzone di otto ore su arte e immagine a 001 nel comune di xxx non avendo richiesto in gps il completamento mi chiedevo se posso completare attraverso le gradatori d'istituto la risposta è assolutamente affermativa sarà possibile accettare altri spezzoni nella medesima scuola o in altre scuole tramite il gradatore d'istituto per arrivare a incrementare le ore per un massimo di 18 ore tale incremento di ore può avvenire sia per il medesimo insegnamento o anche per altri insegnamenti domanda numero 2 la supprenza breve prevede il pagamento delle domeniche dei giorni liberi il dirigente sostiene che mi farà contratti fino al venerdì non mi pagherà il sabato giorno di chiusura della scuola e la domenica per poi rifare un altro contratto di lunedì per il venerdì successivo lo può fare una cosa del genere non può essere fatta ovviamente le domeniche le festività infrasettimanali nonché per i docenti il giorno libero dalle attività di insegnamento ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo sono retribuite da computarsi nell'anzianità di servizio nel caso di completamento di tutto l'orario settimanale ordinario sia ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell'articolo 2109 del codice civile quanto detto è stato anche riportato nella nota delle supprenze per l'anno scolastico 2022 2023 domanda numero 3 ultima domanda il docente che riceve una supprenza annuale o fino al termine delle attività didattiche da gps anche in turni successivi al primo può richiedere di avere un contratto part time la risposta anche in questo caso è affermativa il contratto collettivo nazionale di lavoro 2006 2009 prevede la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro parziale si richiamano a tal proposito l'articolo 25 comma 6 e l'articolo 39 con particolare riguardo al comma 3 relativamente al personale docente ed educativo questo vale anche per il personale ata infatti gli articoli 44 comma 8 51 e 58 articoli appunto 51 e 58 sono riservati proprio al personale ato alle suddette disposizioni si dà luogo tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 73 del decreto legge 112 2008 convertito in legge numero 133 2008 speriamo che le risposte date siano utili ai nostri telespettatori ci rivediamo mercoledì prossimo grazie a tutti